Viste specialistiche nella sanità pubblica, tasto sempre troppo dolente in questa società che fa della salute più un business che un diritto. Le liste di attesa parlano infatti di disagi e diritti alla salute negati, sempre per le categorie deboli, anziani, disoccupati, single, quelli cioè che hanno grosse difficoltà a pagare 120 euro per una vita privata. Così la struttura pubblica resta l'unica speranza. E allora com'è la situazione all'ospedale di Branca? Basta chiedere ad una qualunque farmacia che fa servizio di prenotazioni tramite CUP. Ecco le situazioni più gravi ed allarmanti. Per una visita senologica, definiamola di routine, si deve attendere settembre 2018, ovvero 26 mesi. 11 mesi invece per una vista oculistica, maggio 2017, come per un ecocolordoppler per la carotide. 10 mesi invece per una colonoscopia, prima data disponibile, aprile 2017. Per una odontoiatrica, non c'è posto sino al settembre dell'anno prossimo. Può andare un po' meglio, si fa per dire, a chi soffre di problemi ortopedici o gastrointestinali. Per una visita endocrinologica si può sperare nell'agosto di questo 2016, ma solo quando le liste sono aperte e non succede molto spesso. E ancora, settembre per un controllo ortopedico generico, ad ottobre per una gastroscopia, novembre per un controllo neurologico. Infine, a dicembre 2016, si può sperare di essere sottoposte ad una risonanza alla colonna o all'encefalo o al ginocchio. E ma non mancano situazioni migliori. Per una visita chirurgica, appena due giorni di attesa per controllare ernie, nei, emorroidi e vene. L'ecografia in gravidanza necessita di circa 20 giorni dalla prenotazione. Serve invece almeno un mese per una visita pediatrica per il proprio figlio o dall'otorino anche per un semplice ma fastidioso tappo di cerume, come per un problema dermatologico. 30 giorni anche per una radiografia al torace, ad esempio per una sospetta polmonite, anche se appena pochi mesi orsono il tempo di attesa era di due giorni.